Buongiorno a tutti. Il sindacato pensionati della CGL dell'Alto Tevere, assieme alla Camera del Lavoro Provinciale di Perugia, vi fa un invito. Martedì alle ore 18 e un minuto, sulla pagina Facebook della CGL dell'Umbria, in diretta, andrà in onda un evento che noi abbiamo chiamato Happy Hour Alcohol Free, con un po' di ironia. Pensando al fatto che alle 18 poi chiudono tutti i bar, i ristoranti, poi non ci sono teatri, cinema, le sale e i concerti, tutti i luoghi un po' della nostra socialità contemporanea, abbiamo pensato di stare comunque vicino alle persone, con un momento particolare. Non parleremo di malattie, non parleremo di Covid, ma con voi cercheremo di fare delle escursioni nella letteratura, nella poesia, nel teatro, con la collaborazione di molti attori e attrici che in questo momento, voi sapete, sono come gli altri lavoratori che non riescono a fare il loro lavoro. Perché un sindacato fa questa cosa? Potrebbe essere mal visto, ma noi stiamo vicino alla gente, sia nella tutela individuale, nei nostri uffici, sia in quella collettiva, perché stiamo lottando per la sanità migliore, stiamo lottando vicino ai rider che sono sfruttati, stiamo lottando perché i lavoratori lavorino in sicurezza. Ma occorre, proprio nei momenti più duri, ritrovarsi insieme e anche, come dire, ritrovare attraverso le opere, i prodotti dell'ingegno del nostro paese, quel senso di idealità, quel senso di unione che probabilmente aiuta. Non è tantissimo, però noi ci proviamo a stare insieme a voi. Dal prossimo martedì, per tutti i martedì fino a Natale, noi saremo alle ore 18 e un minuto, sulla pagina Facebook della CGL dell'Umbria, per un aperitivo particolare. Un aperitivo che vorremmo fosse consumato insieme, seppure a distanza, senza alcol, tra giovani e meno giovani, perché noi siamo una forza inclusiva e vogliamo un paese inclusivo.